Era convinto di mettere a segno un colpo facile facile al supermercato, ma purtroppo per lui, in fila alla cassa assieme agli altri clienti, c'era un carabiniere. E' andata male ad un ventenne cerignolano Francesco Di Meo, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai militari della stazione locale con l'accusa di tentata rapina. Il giovane, dopo essere entrato nell'esercizio commerciale con il volto coperto da un passamontagna e armato di coltello, si è avventato contro una dipendente e dopo averla bruscamente scansata, ha afferrato i registratori di cassa dirigendosi poi verso l'uscita. Ma la porta non c'è mai arrivato. Tra le tante persone presenti nel supermercato, infatti, c'era anche un carabiniere libero dal servizio, intento a fare la spesa assieme al figlio di tre anni. Messo in sicurezza il bambino, il militare ha raggiunto il malvivente, disarmandolo e mobilizzandolo dopo una breve ma violenta colluttazione. Tutto sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza del locale, che hanno ripreso le diverse fasi della rapina. Bloccato il ventenne, il carabiniere ha poi avvertito i colleghi della stazione di Cerignola, che arrivati sul posto, hanno preso in consegne il malvivente. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Foggia.